l'amico che fa l'altro allora com'è andata la cena aziendale ieri sera sta buono ho fatto un macello che è successo mamma mia ho bevuto talmente tanto ero talmente embriaco che ho detto non posso tornare a casa con la macchina ho deciso di prendere l'autobus ma stamattina mi sono svegliato e c'ho una sorpresa sotto casa c'ho un autobus parcheggiato e non so mancando cazzo